Adesso abbiamo la relazione del dottor Mauro Mario Mariani che ci parlerà di conoscere i propri rischi per migliorare lo stile di vita. Cosa, come e quando fare. Allora il dottor Mauro Mario Mariani, specialista in angiologia, si definisce mangiologo. Dico bene? Si definisce mangiologo, considerata la sua attività professionale dedicata alla corretta alimentazione basata sulla dieta mediterranea. E' uno dei massimi esperti in terapia chelante, che a noi ci interessa molto. Grazie Fabio, grazie a tutti, grazie a Giorgio. Non c'è la slide dedicata, quindi traduco. Sono medico, chirurgo, specialista in malattie vascolari in angiologia. Questo angiologo, a un certo punto inevitabilmente, per andare a qualcosa come quando, quanto e perché, è diventato un mangiologo. Quindi, avendo fatto gli studi di medicina, c'è stato un ulteriore impegno e studio per poi capire tanti meccanismi biologici e biochimici dell'alimentazione. Bologna 2018, scusate, abbiamo tutti il piacere di giocare con queste cose. Bologna 2002, boom! E se leggete inquinamento e danno biologico dalla sofferenza cellulare agli strumenti di difesa, già 16 anni fa eravamo qui a parlare di ossidologia, terapia chelante, di come rompere un legame tossico. Mi onora l'amicizia, oltre che la stima e la frequentazione scientifica con Giorgio Terziani, siamo maggiorenni da 18 anni, quindi mi fa molto piacere ancora oggi poter essere qui con lui. E allora vi dedico un minuto di un video fatto ad arte per farvi capire cos'è il benessere. Vediamolo insieme. Vediamolo insieme. Per attimi rimango sospeso nel vuoto. Giuro, qualche volta mi sento perduto. Io mi fido solo del mio strano istinto. Non mi ha mai gravità. Non mi sento niente. Non mi sento perduto. Il benessere è questo, è un equilibrio, il benessere è una corda tesa dove noi camminiamo tutti i giorni, bisogna stare attenti a non sporgersi né troppo a destra né troppo a sinistra perché il rischio di precipitare è alto. Quindi alla ricerca dell'equilibrio, questo è il tema che vi tratterò perché il benessere va di pari passo con quest'idea di regolazione e allora ci sono tre protagonisti che ci aiutano a mantenere questo equilibrio. L'energia, vi specificherò poi cosa intenda per l'energia, la chimica e il soma, la parte fisica e questi sono in relazione continua fra di loro. 40 anni fa Renato Zerogan diceva il triangolo no, io dico il triangolo sì, è indispensabile non occuparsi noi specialisti del settore solo di energia, solo di chimica, solo di soma. La biochimica non è importante, è fondamentale per fare il medico e quindi non solo conoscere la chimica dei farmaci ma la biochimica della persona. E allora questo equilibrio si mantiene tale se c'è un'armonia fra queste tre componenti e l'equilibrio perfetto ed unisono ci dà questa condizione che noi cerchiamo il benessere che vista nel Tao è la malattia, l'effetto è posto del benessere. Quindi l'energia cos'è? È quella che guida l'integrazione del rapporto fisiologico, la chimica comprende tutto quello che sappiamo, le complesse meravigliose reazioni biochimiche che avvengono anche nell'interazione fra mente e corpo e poi c'è il soma, quello che, mannaggia, ineluttabilmente ci insegnano a curare solo il soma, quindi a sintomo rispondo con un causa-effetto. Quindi il soma è quello che poverino risente del mancato equilibrio soprattutto fra energia e chimica. E allora la componente energetica comprende varie situazioni spirituali, emotive, mentali e tutto questo ci condiziona nella nostra vita interiore. Mentre l'elemento chimico vibra a una frequenza più lenta, l'elemento chimico perché vibra più lentamente? Perché è più denso e può essere straordinariamente misurato, amo la ricerca scientifica, attraverso gli esami del sangue, oppure attraverso un elettrocardiogramma, un elettroencefalogramma, tutti i preziosi esami che ci suggeriscono poi le nostre diagnosi. E quindi tutte queste complesse meravigliose reazioni biochimiche, non vi spaventate, è quello che sta accadendo in ogni istante in ognuno di noi. Per questo è impossibile continuare a dire e dare soltanto sempre dalla A alla Z quando si parla di integrazione. Bisogna fare un'integrazione mirata, personalizzata, studiata. Ecco perché oggi le armi a disposizione sono tali e tante da metterci in condizione di definire cosa fare. In basso, alla vostra sinistra, compare il ferro, perché poi quando andiamo singolarmente noi siamo abituati a dire e fare, oh manca il ferro signora, non si preoccupi, ecco una tavoletta di ferro e rimettiamo il ferro lì. Ma come vedete il ferro deve rispondere a tante condizioni e situazioni, soprattutto i tre preziosi elementi della superossi di sbutasi, manganese, zinco e rame. Ma la vitamina C, non date mai integratori di ferro a basso dosaggio comunque senza dare la preziosa vitamina C. E vi dico che basta un pugno di lenticchie a pranzo e a cena, un pugno, 20 grammi, per mantenere questa condizione ottimale, per dare dei consigli generali. E tutta questa condizione poi, questa è la ragnatela che più amo, perché mette in relazione non soltanto i minerali, ma ci fa comparire all'interno della ragnatela anche i metalli tossici, perché quell'equilibrio nel campo chimico può essere sconvolto dalla presenza di metalli tossici, come l'arsenico, come l'alluminio. Queste condizioni possono essere oggi individuate, sicuramente nella patologia, e portarle via, complessarle, chelarle, toglierle e migliorare la condizione, che spesso però ha portato a un danno quella persona. Può migliorare il proprio status, ma non si può guarire. E allora ecco, è prezioso l'intervento nella persona non inguaiata, non malata, e quindi fare degli screening, una valutazione. Il mio amico Luigi Montano sta facendo un'opera straordinaria, in una terra non semplice come la terra dei fuochi, studiando i ragazzi di 18-21 anni, sani, addirittura non fumatori, non alcolisti, e che seguono una dieta mediterranea. Perché, da genitore fatemelo dire, ci sono anche questi ragazzi, ce ne sono tanti, solo non fanno notizia. E allora, questa condizione, pam, come un proiettile, ieri Stefano, il primo relatore, ha dato una definizione dell'epigenetica straordinaria, la farò mia, perché la genetica è la pistola, ma l'epigenetica è il grilletto che viene premuto. Quindi queste sostanze, che magari siamo predisposti ad accumularle, ci fanno un danno solo se noi ci veniamo in contatto e le accumuliamo. E allora, il soma, la parte fisica, quella condizione che poi va a manifestare un sintomo, è quella che, quando si creano questi squilibri, si lamenta e viene fuori la malattia. E allora, la malattia dipende da queste, guardate che termine soft ho ricercato per voi, le variazioni esterne. Le variazioni esterne devono essere continuamente compensate, come, quando, quanto, saperlo fare. Quindi, questo equilibrio può essere ottenuto soltanto quando c'è questa condizione fra le tre componenti, chimica, fisica ed energia. E un termine che io amo, che mi ha insegnato la mia maestra, che fra qualche slide vi presenterò, è la restituzione ad integrum, ridare completamente alla persona il proprio stato di benessere. E allora, vediamo, quello che spesso ci riempiamo la bocca, no? È stressato, quella persona, sai, è stressata. Lo stress emotivo è il più importante dei fattori, perché può condizionare una situazione e farla precipitare. E quindi, il pericolo dove sta? Perché ci ammaliamo? Quando, a uno stress emotivo che vedrete, la sindrome del burnout vi presento fra un po', è fatta di tante condizioni e fattori, soprattutto il sentirsi inadeguati, è un termine che sento continuamente dai miei pazienti, e non sentirsi all'altezza delle pressioni che hanno, ma anche una mamma alla prima gravidanza, al primo bambino, no? I primi mesi. C'è la depressione post partum, una sensazione terribile, che non va trattata con dei farmaci dallo psichiatra, ma va gestita assolutamente, in primissima, in un rapporto di coppia ottimale. E allora, l'ambiente. Io e Giorgio Terziani, il nostro cupido, non è solo questo argomento, è tutto quello che lui ha detto nella sua preziosa introduzione, io ne ho ribadisco, però apro il giornale, apro il giornale, leggo che, no? 50 anni fa è stata scritta questa canzone, ma ancora stamattina leggo che un governo del cambiamento, della rivoluzione, breakout, dice, ma no, sì, dai, vendiamo la Lilva, salviamo i posti di lavoro. E allora, Luigi Montano, la salute dove va a finire? Quando il lavoro diventa più importante della salute. nonostante migliaia di cancro e migliaia di bambini malati nella zona di Taranto, soprattutto il quartiere Tamburri. E allora queste città diventano tossiche, le nostre case diventano la casa degli spettri, per quelli, tutte quelle condizioni che ci vanno a determinare patologie. E questo, in una parola semplice, un hashtag, è ipossia, è mancanza di ossigeno, è voglia d'aria. E questa mancanza d'ossigeno, non solo il Gayton l'ha celebrata, ma addirittura, negli anni 30, ci hanno, sì, negli anni 30, alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, ci hanno raccontato come la faccia racconta, la sua bocca era simmetrica e il suo sguardo, la sua palpeira di sinistra, è rimasta permanentemente chiusa a metà. E l'angolo della sua bocca, considero normalmente contratto dal lato. Il Percival, studiando gli scrittori dell'Ottocento, in primis Edgar Allan Poe, che ha giovato di queste sue visioni, allucinazioni, per i suoi meravigliosi scritti. Questo perché, questo parallelismo che riporto nel 2018, perché questi scrivevano la notte con la lampada a carbone, che rubava tutto l'ossigeno nella stanza. E questi vedevano le stelline, e poi le scrivevano anche. E quindi, l'ipossia moderna è determinata da un on-check food spropositato, perché lo rompi l'equilibrio, se a tuo figlio gli dai solo palmella e due volte alla settimana, ma solo due, lo porti in questi fast food. Lo rompi l'equilibrio, perché da zero a vent'anni quell'organismo si sta formando. Perché poi, le allergie, allegria, allergia, un sito del Ministero, allegria, allergia, perché tanto ci sono gli antistaminici. Un bambino su cinque utilizza antistaminici. E quindi questa condizione diventa paricolosa poi quando cresciamo, perché l'insonnia la curiamo con i sonniferi e poi di giorno crolliamo, stanchi, inadeguati. Il dramma dell'alcolismo. Vinciamo da otto anni la Champions League per i bambini più ascolisti d'Europa, perché un ragazzino di 15 anni è un bambino e dobbiamo assolutamente far rispettare le leggi, ma facciamoci una grassa risata, perché in qualsiasi piazza pubblica in orari impossibili le ore piccole dei sabato sera italiani sono frequentate da questi ragazzi con alcool in mano. E poi, chi mi conosce sa quanto sia rompiscatole senza se, senza ma, nel niente al fumo di sigaretta. E sono reduce da 14 giorni negli Stati Uniti dove è incredibile mescolarsi a Times Square a ore tarde con milioni di persone che ti vengono addosso e nessuna lucina accesa del fumo di sigaretta. Ci sono riusciti loro. Perché non poterci provare noi? Perché, piccolo inciso, poi me ne vado dal fumo, tirate un sospiro di sollievo ma non aspirate poi qualcosa che vi fa molto male, amici fumatori. di tutti cancro non vi focalizzate che avete bronchi puliti e non avete la tosse perché di tutti cancro il fumo incide al 33% come primo fattore di rischio. E allora tutto questo poi si trasferisce in infiammazione c'è feeling nell'area terza volta che lo nomino col dottor Montano la sua zona questa è una foto originale del dottor Mariani dal suo telefono quartieri spagnoli c'è vita accisa salute tutto questo ci sta uccidendo giorno dopo giorno e allora è fondamentale capire tutte queste condizioni perché quando si accavallano aumentano in maniera esponenziale il proprio danno quindi se fumi bevi alcolici mangi male fai un lavoro che non ti piace sei divorziato e ogni fine mese combatti con la tua signora per dare gli alimenti e potrei aggiungerne altre del così fan tutti per determinare energia la rottura dell'equilibrio e quindi la malattia sono le relazioni pericolose questo ha vinto tre Oscar ma invece inversamente quegli altri ti fanno fare tre malattie che poi peggiori perché prendi farmaci e allora l'energia che guida questa integrazione è fondamentale metterci a disposizione degli altri sì ma in primis del nostro compagno della nostra compagna vivere una relazione di coppia felice dare sostegno evitare le pressioni eccessive al lavoro ma anche soprattutto in casa perché questo stress continuo porta a un'inadeguata fase di recupero e quindi tutta questa situazione va ad esplodere e tutto questo fortunello che sono nel 1994 boom un quarto di secolo fa la mia preziosa maestra mi ha insegnato tutto quel po' che so e lei mi insegnò la loading theory la teoria da carico che è fatta da allergie metalli tossici errate abitudini alimentari e comportamentali lo stress di cui prima sopra le infezioni tutto questo che porta boom a una resistenza cellulare ed immunologica quindi ve lo dice un angiologo uno che ha a che fare con ictus infarti e quant'altro che il problema è immunitario non abbiamo le difese per rispondere a quello che ci accade e in tutto questo si rompe un filo si rompe drammaticamente questa corda e allora è fondamentale anche quando rimane un unico filo intervenire e recuperare perché poi quando la soccorda si rompe mannaggia possiamo migliorare la condizione ma non guariamo le persone quindi quando un medico non guarisce un proprio paziente ha fallito e quindi dobbiamo sforzarci ogni giorno di reclutare più persone possibile prima che sia troppo tardi e allora omeostasi significa equilibrio mantenere una condizione assolutamente stabile e questo i grandi maestri da Claude Bernard che ci diceva che l'ambiente il terreno è tutto nel proprio equilibrio fino a Walter Cannon che dè la definizione finale di omeostati che ancora oggi studiamo uno stato stazionario da mantenere e tutto questo non ve spaventate che non è una ferrovia il rosso è il citoplasma della cellulare alla cellula B e quelli in mezzo quel mare nostrum tra l'Italia e la Croazia è la matrice extracellulare è quello che ci rende in condizioni di comunicare e ci sono delle interferenze e ce l'ho in diagonale non posso che ringraziare della preziosa illuminazione vent'anni fa venticinque forse anche lì perché eravamo a Cagliari nei primi degli anni novanta il professor Bacci con il suo libro assolutamente rivoluzionario in quegli anni sulla matrice extracellulare e allora l'equilibrio è arrivare alla cellula regolare il rapporto fra cellule fra la matrice dove per i non addetti ai lavori è quello che avete chiamato sempre tessuto connettivo mesenchima ma c'è un termine prezioso degli anni 30 che chiamava il mesenchima la sostanza fondamentale la sostanza o i brividi la sostanza è fondamentale intervenire lì in quella zona fondamentale e qui il glicocalice è quel carciofo che vedete qui sbucare vedete vedete questo carciofo verde è un'antenna il glicocalice è prezioso e importante perché è l'antenna che comunica e che può essere invece risentente di una condizione di tossicità e quindi è quando dite cielo non mi prende il telefono oddio andate nel palco c'è il wifi no oddio quello succede alla cellula quando si ammala non ha più il segnale e allora attenzione citoplasma double straight membrana cellulare l'ipofila i carciofi crescono e arrivano fino al nucleo e che succede tutto quello che abbiamo studiato attenzione assolutamente sì quando arriva un batterio ma che sia tale dopo tampone orofaringe o quell'antibiotico che scegliete non il largo spettro do coio coio per quello basta i polli d'allevamento che ti mangi una coscia ogni sera e c'è gli antibiotici a largo spettro per qualsiasi malattia quindi è fondamentale intervenire e differenziare quando c'è un'infezione virale perché la strategia è completamente differente quando c'è my world la tossina qualcosa che vedete va a interferire blocca la condizione libera del glicocalice e sono martellate sono mazziate sono martellate questo per le nostre cellule e qui i visionari parlavano nel 2008 lì dove osa il self food ricordo i mesi prima nella prima era quando dissi a Giorgio Gio dopo otto anni ma io ho capito dove agisce self food dove pulisce dove va a dare oxigeno on demand quando ce n'è bisogno e quindi questo prezioso detrosulfazime con questo pool di aminoacidi minerali e altre sostanze preziosi riesce a dare quello che la cellula vorrebbe in quel momento on demand e allora nel mio scritto ho definito il bianco e il nero e c'è troppo nero in giro per non agire con il bianco anche facendo una nutraceutica mirata scelta e consentitemi intelligente e allora lo stress ossidativo condiziona il nostro organismo in ogni suo dove e quindi andiamo a neurodegenerazione in flammaging oggi si parla appunto di questa terza età fatta di tanti crucci la stanchezza la sindrome della fatica cronica il sistema immunitario l'invecchiamento e tutto questo dipende appunto da tutto quello di cui prima sopra li ripetiamo i fattori che vanno a determinare malattia e allora anche qui semplice semplice dieci anni di televisione mi hanno insegnato che con le immagini si possono fare mille parole e allora cos'è un radicale libero è qualcosa che noi generiamo quando dobbiamo dare risposte e questo interviene per essere immediatamente soddisfatto e quello lo fa il riducente a me piace di più però chiamiamolo come sapete chiamarlo voi l'antiossidante l'antiossidante riduce l'azione ossidativa del radicale libero facendogli cosa cedendoglielo e quindi di tante sostanze a cominciare dalla membrana che giova di preziosi omega fino ad entrare dentro i nostri meravigliosi organoli in primis il mitocondrio necessitiamo di tante sostanze e un prezioso libro che mi consigliò la mia maestra appena arrivato negli Stati Uniti nel 1994 fu proprio quello dell'Ari Sharma che diceva che i radicali liberi sono squali molecolari perché come li generi colpiscono quindi devi avere un tampone che eviti questo la sguarnimento i portoni aperti entrano i ladri e ci rubano tutto e allora questa condizione bisogna applicarla ogni giorno coscienza e coscienza e oggi vi porto un case report perché è una storia meravigliosa è una storia felice di una persona che ha ritrovato la propria felicità e come dice Paracelso più di Celso ogni medico dovrebbe essere ricco di conoscenze non soltanto quelle contenute nei preziosi libri di studio ma i suoi pazienti dovrebbero essere i suoi libri e pazienti diventano libri se sei paziente tu stesso sia nella gestione della storia nell'attenzione ma soprattutto poi nell'immedesimazione e allora vi presento questa persona che arriva da me una donna di 45 anni un ingegnere un ingegnere particolare già vi svelo un po' di quello che vi racconterò perché lei prevalentemente vive nelle gallerie è un ingegnere dell'ANAS e quindi scava va fa e quindi già potete immaginare il body burden il carico tossico che possa avere e arriva con una carrellata di sintomi che conoscete tutti in tante persone mi sento stanca ho infiammazioni ho ansia attacchi di panico perdita di capelli non riesco a dimagrire non mangio niente perdita dell'equilibrio non quello mio ma quello proprio fisico formicoli agli arti e debolezze disordine del sonno sindrome ansioso depressiva un quadro veramente complesso lo sguardo di questa donna era molto spento e allora i miei approcci il primo approccio è un test sul capello però non sul bulbo questo l'altro poi ve ne parlerò ma sul capello all'atere i tre centimetri di emergenza e vedo che sta donna è un lo chiamo il canarino è un marcatore biologico il capello vedo che sta donna ha un pizzico di mercurio non manca nessuno 1.3 su 0.8 un pizzico d'argento 0.29 sino a 0.15 niente di che il suo quadro nutrizionale perché poi spesso queste persone non mangiano male perché sono tanti anni che combattono e per esclusione hanno già risolto tante condizioni da loro e vedete io la chiamo la farfalla il corpo e le ali i difetti e gli eccessi sta in un range al di là di avere un calcio altissimo ma questo è frutto di stress come sapete che aumenta il calcio esponenzialmente il magnesio prova ad andarli dietro ma non gliela fa ma il test del quale voglio sottolinearvi l'evoluzione è il test di chelazione il test di chelazione si fa prendendo le urine la mattina al risveglio si fa due ore di flebo complessante con un farmaco chelante che è l'acido tilendiamino tetracetico che è l'EDTA 2 grammi al quale si aggiunge un cocktail prezioso fatto di minerali e vitamine in primis la vitamina C 5 grammi nella flebo che valenta due ore in 500 ml di fisiologica io rimango molto sorpreso perché la condizione di questa paziente già questa è la sua urina prima di iniziare tutto questo è il punto zero questo è gennaio 2017 già lei mi dà 410 di arsenico e dico ma con tuo marito tutto bene ti dà l'amaretto la sera arsenico vecchi merletti e dopo flebo vedete buttando tanto piombo 7.9 livelli accettabili 2 le si riduce l'arsenico ma esce anche l'alluminio che è un grande altro protagonista addirittura 64 invece che 30 aprile 2017 710 710 di arsenico prima ammazza dico ma che ti sta succedendo boom 810 dopo ma questo è fantastico perché io medico che ho fatto studi medici angiologia medica divento cerusico chirurgo barbiere perché tolgo tolgo grazie a questa terapia io tolgo e il dopo questo 810 è fantastico perché io gliel'ho tolto quell'810 quel 7 di piombo quel 1.9 di cadmio quel 38 di alluminio continua la storia e andiamo nel 2018 a gennaio perché ogni 5 7 flebo faccio ripetere l'esame oh e già lei happy christmas un natale felicissimo con un ringraziamento personale forse mai avuto perché il marito viene da solo e mi dice grazie per avermi restituito la mia Anna ma non io il discorso di tossificazione perché Anna inizia a avere valori accettabili ma oggi Anna è guarita qui siamo a marzo marzo 2018 e qui due settimane fa solo per noi ripete il test e ancora pulita nonostante attenzione sei settimane fra vacanza mia e sua di mancata flebo rifatto una flebo ed è venuto questo risultato in tutto questo interessantissimo caramba che sorpresa perché ho potuto io ho conosciuto questo test una telefonata esplosiva era a 2500 metri nel marzo 2017 Giorgio Terziani dal Messico mi dice Mario ferma tutto perché qui ho una rivoluzione in mano da fare ci vediamo poi diverse volte grazie ai contributi assoluti di Carlos e a questa donna faccio a settembre 2017 il primo test ma già era frutto di un percorso che è vedete ribadito settembre 2017 non c'erano metalli tossici ma c'erano radiazioni e allora insegnarle che i due cellulari e il computer che portava sempre addosso perché viveva in un mondo di operai tutta una storia ragazzi che sarà un capitolo del mio prossimo libro dedicato alle donne e guardate oggi anche qui gentilissima si è sottoposta la scorsa settimana nuovamente ha tolto anche la radiazione metalli tossici proprio non ci sono c'è qualche segnale di sostanze ipa ma questa lavora in mezzo alla strada e allora tutto questo cosa come quando quanto fare fare nella giornata una condizione che ci metta in condizioni di mantenere l'equilibrio quindi al di là di una colazione fatta con cibi sani frutta e carboidrati complessi pane marmellata una crostata fatta in casa pane miele fare gli spuntini io la chiamo la dieta di pollicino mangiare poco e spesso poco che significa quattro fragole due albicocche una pesca ma ogni due ore modulare gli antiossidanti ma è troppo giù ma è troppo su gli zuccheri ma è troppo giù ma è troppo su l'infiammazione ma è troppo su ma è troppo giù e quindi questa condizione fatta di frutta secca di pinsimonio anche di uno snack cereali e frutta secca coniugati insieme ti porta sereno a cena e a pranzo dove inizieremo sempre con un bel piatto di insalata e tutto questo non in rispetto a quello che il ministero ci consiglia perché qui vedo delle condizioni come latte e formaggi che poco si coniugano con un discorso alimentare idoneo per tutti chi non ha problemi può mangiare l'acqua e formaggi da soli mai mescolandoli con altre proteine nella giusta quantità di eccellente qualità altrimenti poi vengono fuori tanti guai perché il latte è una sostanza lipofila e si carica tutti i tossici in primis la diossina e quindi io amo il piatto perfetto di Harvard che è la dieta mediterranea di nonno fatta di frutta e verdura cereali integrali proteine sane e per proteine sane cosa intendo preferire pesce due o tre volte alla settimana carni bianche una o due volte organic assolutamente sì biologico legumi frutta a guscio limitare anche qui non facciamo le crociate e i contrimulini a vento limitare le carni rosse di qualità le carni rosse anche lì non di allevamento intensivo industriale ma io a Matteo di 14 anni almeno una volta alla settimana la bistecca gliela do e allora l'importante è limitare e a Matteo però gli faccio evitare gli affettati e gli hamburger perché ricchi di tanti pericoli come purtroppo i nitrati e i nitriti ci sono e quindi in sintesi 0736 chiamatemi il prefisso di Ascoli Piceno 0 sigarette 0 alcol 7 volte dura poco e spesso 36 minuti di movimento la frutta spesso volentieri e questo è il consiglio che se già lo applichiamo di oggi ma ho visto che già ieri sera è arrivata a tavola senza ordinarla l'insalata come starter il mio come quando perché la comunicazione visiva è più importante di quell'orale ci ho messo 8 anni a capirlo in televisione su Ray 1 ma poi da due anni non mi fregaranno mai più perché quando parlo a fianco parte la grafica del come quando perché e allora quando parlo di insalata non mi diranno più ah sì Mario tu ho visto in televisione portavi la camicia a scacchi ma mi diranno che questa insalata va mangiata inizio pasto perché placa l'appetito consiene insimi vivi protegge dalle macromolevole e questo è fondamentale per comunicare alle persone miau cat la cascata antiossidante trasversale perché quella stessa insalata se te la mangi dopo la coscia di pollo come antiossidanti te ne arrivano zero perché stai acidificando e bruci tutti e quindi ricordiamo di difenderci più possibile la cosa meno peggio mangiando cibi certi di filiera locali freschi e stagionali ma la cosa più importante ieri abbiamo fatto una riunione dovevamo parlare del test abbiamo parlato un'ora di acqua ma i commensali a quel tavolo erano talmente appetitosi più del cibo dopo l'acqua è fondamentale ma soprattutto io che sono stato 14 giorni negli Stati Uniti sono arrivato ieri mattina la cosa che più mi è mancata è stato il nostro olio Evo il nostro prezioso olio exavergine di oliva che negli Stati Uniti anche i ristoranti importanti non sanno cosa sia la maestra Serafina Corsello un grammo di prevenzione vale più di un chilo di cura ecco perché la prevenzione passa per dei test non invasivi fatti sul bulbo con una pinzetta da estetista riesci a capire cosa fare cosa dare soprattutto a non esagerare e anche io oggi guarda un po' pensando a questa giornata ho pensato al mio papà che come il nono di Estefan è stato frutto della sua ignoranza per questo mi ha lasciato a me ventenne lui sessantenne decine e decine di sigarette me l'hanno portato via però non mi ha portato via questa frase che voglio regalarvi che è una trasposizione di una regola latina fore ut il congiuntivo mio padre mi ha insegnato questo per andare sempre avanti fino all'ultimo momento mi ha salutato così fore ut il congiuntivo e io vi saluto così fore ut il congiuntivo grazie grazie a tutti grazie a tutti